Ieri sera la riapertura avvenuta dopo il dissequestro, la pizzeria Oasi ha fatto registrare il pianone. Nel locale di Rione Martiri, ad Areano Irpino, come sottolinea l'avvocato Guerino Gazzella, si sono recati molti clienti che hanno omaggiato i titolari della pizzeria con dei fasci dei fiori, come se fosse un evento di inaugurazione. La pizzeria era stata sequestrata il 1 novembre scorso dopo il decesso di Gerardina Corsano. La donna insieme al marito Angelo Menino la sera del 28 ottobre si era recata nel locale a Cenare. Nelle ore successive la coppia aveva accusato dei dolori che avevano costretto i coneggi a rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale Francipane più di una volta. Il 31 ottobre si è registrato il decesso della 40 senne, mentre il marito in condizioni critiche era stato trasferito all'ospedale Cotugno di Napoli. Inizialmente si era pensato a una intossicazione da botulino contenuto nell'olio piccante utilizzato sulla pizza della coppia, circostanza questa che è stata smentita dall'esito delle analisi eseguite presso il nostro comio partenopeo. L'assenza di tracce di botulino da sangue di Menino hanno spinto quindi la procura di Benevento a dissequestrare il locale. Restano indagati per omicidio colposo insieme al medico dell'ospedale di Areno Ilpino e proprietari della storica pizzeria. I due ristoratori sono assistiti dall'avvocato Guerino Gazella. Intanto c'è attesa per i risultati delle analisi eseguite dall'Istituto Superiore di Sanità di Roma. I test richiesti dalla procura in sede di esame otoptico sulla salma di Gerardina Corsano. La relazione finale verrà depositata entro 90 giorni. Decaduta all'originale ipotesi di una intossicazione alimentare da botulino prende colpo la pista di una tossinfezione causata dalla manipolazione di sostanze chimiche utilizzate per la conservazione dei prodotti destinati all'agricoltura che la coppia commerciava nell'azienda dove lavoravano i coniugi.